buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 5 ottobre 2024 vediamo subito il santo del giorno facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano faustina perché la santa del giorno è santa maria faustina kowalska era polacca promosse la famosa coroncina della misericordia grazie alla quale sono state promesse particolari grazie le previsioni del tempo le vediamo che sono ancora perturbate ecco la grafica sono ancora perturbate perché le previsioni annunciano una giornata molto nuvolosa con possibili locali rovesci pomeridiani 20 tesi da nord e lungo i settori costieri arriveranno da ovest nord ovest nell'introterra invece da nord nord est le temperature 13 13 la minima 16 la massima è calata alquanto rispetto ai giorni scorsi il sole è sorto alle 7 08 e tramonterà alle 18 e 43 e allora oggi apriamo per primo il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo l'articolo di apertura eccolo qua abbiamo una intervista una dichiarazione a stefano marchigiani consigliere comunale ex assessore alla cultura nei primi tempi della giunta seri ora i soldi alla proloco diventano un caso ebbene c'è un fuoco concentrico su questa associazione a cui sono stati delegati diversi incarichi in passato ha organizzato diverse manifestazioni ora c'è una verifica per la correttezza di quanto è stato fatto e poi vediamo a fondo pagina che il vittorio colonna ha ricevuto ieri tutto il sistema di video sorveglianza in limità ha piazzato infatti le telecamere per fermare gli ingressi abusivi c'è stato anche un controllo da parte della polizia locale nella giornata di ieri ma non ha riscontrato alcun ingresso abusivo come invece si era verificato in passato ora si lavorerà per la trasformazione del giardino in un parcheggio in un parcheggio molto molto utile molto desiderato da parte di tutti i cittadini che poi frequenteranno il centro storico il vittoria colonna è a due passi da via cavour proprio una delle porte più importanti di ingresso del centro cittadino quindi un'importante realizzazione per il riscatto per diciamo così per il riuso di questo grande impianto che insomma può avere un ruolo importante di vitalità nella nostra città giriamo ancora la pagina e parliamo di un evento a cui anche il nostro tg il tg di fano tv ieri ha dato una particolare importanza si tratta di un evento grandioso oserei definirlo perché si svolge con l'idea di attrarre a fano tra le 20.000 e le 40.000 persone veramente una massa di pubblico eccezionale tutto questo dovrebbe avvenire all'aeroporto il prossimo anno nel mese di giugno c'è un investitore un investitore americano che frequenta pesaro residente a pesaro da tanto tanto tempo è conosciuto anche in città quindi la sua serietà non viene messa in discussione un investimento tra i 4 5 milioni forse anche di più per realizzare l'adriatic sound festival un festival di dj che dovrebbe dilungarsi per due giornate nel mese di luglio senza che coincida con altri eventi perché questo deve avere una rilevanza non dico nazionale ma addirittura internazionale attraendo gente da tanti altri paesi europei anche fano sarà capitale di techno e house presentato all'adriatic sound festival evento che porterà in città alcuni dei migliori dj del mondo e dalle 20 alle 40.000 persone così come abbiamo detto si svolgerà il 13 14 giugno del 2025 nell'aeroporto l'aeroporto di fano con la nuova giunta ser filippi sta avendo una nuova vitalità infatti vediamo anche sul corriere adriatico l'articolo che annuncia questo evento eccolo qua adriatic sound festival al campo volo un evento techno house per 40.000 persone ma quello che volevo dirli e volevo farvi vedere l'articolo di spalla enac allo studio l'atto per trasferire il sedime ebbene dicevo all'aeroporto è oggetto di particolare attenzione da parte dell'amministrazione comunale che vuole definire la proprietà la correttezza amministrativa che per quanto riguarda l'aeroporto e poi utilizzarlo nel migliore dei modi è in atto infatti l'azione di realizzare la pista in vitume e quindi anche l'utilizzare l'aeroporto non solo per i voli ma anche per dare promozione alla nostra città facendoli dei grandi eventi e tutto questo è stato presentato ieri nella sala della giunta del palazzo comunale vediamo il sindaco massimo seri e questo è l'investitore si tratta di robert lewis e poi qua vediamo il presidente dell'associazione fanum fortuna associazione che gestisce l'aeroporto e che ha dato la massima disponibilità a questo evento torniamo ora al resto del carlino per vedere le altre notizie ebbene ora si parla di utilizzare i soldi di Gimarra per il lungomare la proposta di ser filippi a salvini il sindaco chiede di recuperare i 20 milioni persi per la realizzazione della viabilità della nuova viabilità tra peso refano che la vecchia amministrazione aveva indicato per completare l'interquartieri oltre alla federiciana che costa 10 milioni di euro e sappiamo che ne sono disponibili poco più di 2 milioni ebbene è in ballo la passeggiata di sassonia rifare tutta la passeggiata di sassonia quella che aveva ideato tempo fa l'architetto lamedica e che non dovrebbe limitarsi soltanto al waterfront dell'ex rastat quel waterfront che ancora da completare recuperare i 20 milioni di euro destinati alla strada di Gimarra ma persi dalla precedente amministrazione a questo punto sta lavorando la giunta ser filippi 10 milioni indirizzati al progetto della nuova federiciana gli altri 10 se saranno concessi serviranno a rivoluzionare tutto il lungomare di sassonia dal porto fino a sassonia 3 questa è la richiesta che hanno fatto il sindaco luca sanfilippi e l'assessore ai lavori pubblici gianluca ilari al ministro salvini passiamo ora alle altre manifestazioni oltre quella che abbiamo annunciato all'aeroporto di fano e vediamo quelle che si stanno svolgendo proprio in questi giorni parliamo del tartufo vediamo che pergola celebra il suo oro bianco così viene chiamato questo stupendo prodotto della natura che è una risorsa economica di eccezionale importanza per il nostro territorio parte dunque la fiera domani si apre la 27esima edizione del tartufo protagonista per tre domeniche a pergola oggi l'anteprima tra musica vino e modellini di trena e di treni in mostra e dobbiamo dire che anche il treno recita una parte importante in questa manifestazione perché il treno storico sarà un veicolo che attrarrà ancora di più la gente perché fare una passeggiata su una locomotiva a vapore è di per sé particolarmente suggestivo e vediamo anche un incidente che si è verificato a fano anzi un doppio incidente ieri mattina per fortuna nessun ferito il primo si è verificato in via a porti con una ciclista sbalzata a terra il secondo in via a fraghetto con uno scontro tra due auto per fortuna in entrambi i incidenti i rilievi di legge non hanno così riscontrato particolari effetti nocivi per le persone non essendosi infortunata nessuna appunto delle persone coinvolte nella ciclista che è stata sbalzata da sella né appunto gli occupanti delle auto interessate giriamo ancora la pagina sul resto delle carlino e siamo ad urbino e vediamo la foto di francesca crespini della lista futura che contesta la variazione di bilancio che è stata così proposta dalla giunta gambini il comune mente sulla università secondo la crespini e la permuta dei terreni non è stata fatta ma la giunta conteggia già gli affitti ha dichiarato mettendo in evidenza questa discrepanza e poi intanto a urbino si svolge il festival del giornalismo culturale un evento che si ripete ogni anno ogni anno e che attrae un po' l'attenzione di coloro che si dedicano alla carta stampata ma anche ai media e sommà la comunicazione in generale c'è anche il premio strega di pierantonio donne protagoniste questo il tema di questa iniziativa di quest'anno alle 11 è previsto un'intervista a monica maggioni una delle più note giornaliste di rea news 24 e la chiusura con alexio magistrali di lucia goraci intanto a parte il tartufo parliamo anche di funghi perché l'autunno è una stagione molto generosa per quanto riguarda i funghi torna la festa del fungo a san sisto l'intero paese invaso da profumi oggi e domani a san sisto è un paesino delizioso che si trova alle pendici degli appennini e propone uno dei suoi fantastici frutti della terra il fungo l'occasione per apprezzarlo è data dalla 55esima edizione della festa del fungo mostra micologica regionale che iniziata la scorsa settimana termina proprio in questo weekend quindi abbiamo ancora alcuni alcuni momenti alcune ore per poter visitare questa eccezionale iniziativa ma a proposito di funghi dobbiamo stare anche molto molto attenti perché sul Corriere Adriatico abbiamo un articolo di cronaca che ci evidenzia come un anziano che nella giornata di ieri anzi era ieri tardo pomeriggio era andato sulle rive sulle sponde diciamo meglio del fiume metauro per cercare funghi e a causa dell'arrivo della notte ma anche della pioggia si è un po' sperso quindi è rimasto spaesato si perde raccogliendo funghi salvato dai vigili del fuoco è un settantenne che è stato sorpreso dal buio e dalla pioggia ritrovato lungo il metauro la notte già calata e la fitta pioggia avevano confuso questa persona facendogli perdere l'orientamento e non era più stato in grado di tornare nel luogo dove aveva parcheggiato la propria auto ebbene è scoppiato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno così battuto il territorio lo hanno ritrovato e hanno individuato all'uomo che infreddolito e spaventato è stato raggiunto e poi condotto nella zona di metauriglia dove aveva parcheggiato la propria auto è stato trovato in buone condizioni di salute insomma l'avventura è finita bene ma ci sono ci sono vissuti momenti di apprezzione vediamo ancora le altre notizie pubblicate dal resto del carlino a fossombrone la pagina di fossombrone ma si svolge un po vicino fossombrone perché questa è un'iniziativa che proviene da cagli tant'è che qui vediamo il sindaco alberto alessandri che stringe la mano all'assessore regionale alle infrastrutture francesco balvelli perché si parla ancora di pede montana questo progetto di cui si parla da tempo una viabilità che dovrebbe così collegare tutte le località nei pressi degli appennini in via parallela alla statale 16 che invece percorre la costa è sul punto così di fa piccoli passi in avanti speriamo che questi piccoli passi alla fine arrivino e alla conclusione l'assessore regionale baldelli delinea la nuova strada tra fabriano e cagli è stata inserita come opera prioritaria e questo è importante nel piano delle infrastrutture marche 2032 2032 ancora un pochino in là però insomma piano piano ci arriveremo questo per quanto riguarda il resto del carlino ma prima di abbandonarlo vediamo anche quello che il giornale ci dice per quanto riguarda la provincia di pesaro vediamo qui la pagina nazionale eccola qua invece quella di pesaro vediamo che nella foto grande e della prima pagina un articolo di cronaca il momento culminante in cui una donna disabile viene obbligata a lasciare la propria abitazione perché questa è stata soggetta ad uno sfratto aveva tentato di resistere in tutti i modi rimanendo a letto è una donna veramente certificata disabile nella propria abitazione per non abbandonarla ma alla fine è stata costretta a lasciarla e poi è stata sistemata in un albergo drammatico sfratto una professionista invalida al cento per cento si barrica in casa portata via in ambulanza dopo diverse ore e poi parliamo di dengue perché la novità è quella che un caso si è verificato a pesaro dopo tutti i casi che si sono concentrati come un focolaio a fano ora anche pesaro affronta questa questo problema questa situazione dengue anche a pesaro ricoverato un uomo ma non c'è però relazione con i contagiati di fano lo afferma il responsabile dell'istituto zoo profilattico umbria mare che sta seguendo con attenzione insieme al dipartimento della prevenzione dell'aste numero uno di di pesaro urbino questa situazione problematica che da alcuni viene così viene si dice che è stata troppo enfatizzata da altri invece dice che ci vogliono ancora a provvedimenti in più perché quelli che sono stati assunti non sono risolutivi ebbene la città si sta dividendo su come affrontare questa situazione dengue anche a pesaro ricoverato un uomo ma non c'è relazione con i contagiati di fano l'abitazione del caso pesarese è in zona mare lì si è svolta la disinfestazione il paziente è stato ricoverato nel reparto di medicina del san salvatore dal 28 settembre scorso l'arrivo del freddo ridurrà la popolazione degli insetti e a questo proposito lo ha dichiarato anche il primario dell'ospedale del reparto degli infettivi di pesaro lo vediamo qui è il dottore francesco barchiesi eccolo qua con una foto il freddo sarà nostro alleato ma disinfestare è la priorità il primario barchiesi l'immunizzazione difficile ci sono quattro varianti ebbene si esiste un virus per un vaccino scusate per combattere il virus della dengue però è difficile immunizzare una persona perché il virus appartiene a quattro specie diverse e se una persona viene punta da un virus poi viene immunizzata per questo virus e poi invece viene colpita da un'altra variante ce ne sono quattro ebbene quel vaccino che ha avuto non serve a nulla perché non combatte il virus che è subentrato insomma il problema è piuttosto complesso ci sono anche delle polemiche per esempio vediamo qui sul Corriere Adriatico come l'ex assessore provinciale Davide Rossi evidenzia come quello che è stato fatto fino adesso è praticamente inutile così si alimentano forme di psicosi e di paura c'è un clima fobico veramente sui contagi del virus dengue alimentato dagli esponenti politici e anche da esperti virologi come Roberto Burioni afferma Rossi è la protesta a margine del cosiddetto focolaio fanese a Fano sembra di essere tornati indietro si sta enfatizzando si sta facendo parlando anche troppo di questa vicenda e si fa del male al turismo questo secondo secondo appunto Davide Rossi e poi abbiamo anche una presa di posizione del consigliere comunale di Incomune Samuele Mascarin che evidenzia come quello che ha fatto l'amministrazione comunale sia del tutto insufficiente anche i kit che vengono venduti insomma sono una specie di pagliativo secondo mascarin e non risolvono affatto la situazione c'è anche una risposta da parte del presidente di ASET Giacomo Mattioli che dice noi non abbiamo avuto nessuna intenzione di proporre una risoluzione al problema della dengue abbiamo voluto soltanto così concedere un supporto a coloro che possono fare qualcosa perché anche i privati devono mobilitarsi non solo il pubblico per cercare di affrontare il focolai e beh dunque è un problema complesso con cui ci dovremo confrontare non solo non solo nei prossimi giorni ma gli esperti dicono che la dengue tornerà anche tutti gli anni a avvenire e quindi non solo l'influenza non solo dovremo combattere il covid che è ancora presente nel nostro territorio ma dovremo affrontare anche l'influenza e allora passiamo ancora alle notizie del resto del carlino vediamo che la che enel green power non pulirà gli invasi e che dovrebbe dovrebbero contenere le riserve d'acqua per combattere la siccità dovrebbe farlo la regione dighe enel non le pulisce biancani imponiamolo ebbene biancani interpella la regione mobilita la regione dicendo di obbligare enel green power a così pulirgli invasi appicché contengono ancora più acqua quell'acqua che ora c'è ma st'estate è mancata tantissimo vediamo un altro articolo di lite familiare questi liti che si moltiplicano continuano sempre nella cronaca madre e figlia inferno in famiglia lui le minaccia di morte con il coltello alla sbarra per maltrattamenti è finito un quarantenne marocchino è stata ascoltata la donna e si valuta se farlo anche con la figlia ti faccio fuori ti porto via la bambina non te la lascio piuttosto vi ammazzo tutte e due qui sono una delle frasi che avrebbe pronunciato il marito di questa il padre di famiglia di questa donna allora lasciamo qui il resto del carlino e continuiamo la nostra rassegna stampa sul Corriere Adriatico dove l'apertura sulla pagina di Fano è dedicata all'assistenza agli anziani un'assistenza critica per quanto riguarda in modo particolare Fano che dispone di una insufficienza per quanto riguarda le case di ricovero Fano ne ha tre due private e una semipubblica possiamo dire perché è di proprietà pubblica ma è in gestione privata allora emergenza anziani solo tre strutture abbiamo la dontonucci che è quella famosa casa di riposo per non autosufficienti 30 posti con 20 persone che possono ottenere anche una sistemazione alberghiera ma che avrebbe dovuto contenere 80 posti per non autosufficienti in realtà questi 80 posti non sono mai arrivati poi abbiamo Famiglianova e Lacante di Montevecchio anche qui la risposta è insufficiente tanto che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale l'ex Assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti ha veramente evidenziato che ci sono 200 famiglie in attesa 200 famiglie che non sanno dove poter così offrire assistenza ai propri anziani vuoi perché magari il coniuge è diventato troppo vecchio e anche lui non gliela fa più a così accudire e l'altro coniuge è disabile oppure perché per ragioni di lavoro non si può assentarsi insomma bisogna assentarsi per forza da casa e non si può lasciare l'anziano solo ebbene chiudono un ricco chiedono un ricovero 200 famiglie e questo appunto è quanto si evidenzia si cerca di così risolvere il problema la maggioranza approvando una mozione anche della opposizione si è impegnata a convocare una seduta monografica del Consiglio Comunale con interlocutori regionali dedicata proprio a questo problema vediamo anche le altre notizie gruppo baskin al via la stagione agonistica per questo per questa situazione per questo settore sportivo dedicato dedicato ai disabili e poi per quanto riguarda la Flaminia vi leggo anche questo articolo che viene da Fossombrone interviene la provincia per riparare i tratti sconnessi della Consolare l'annuncio del Comune dopo un sopralluogo con presidente e dirigente e sono elencati i posti dove verrà effettuato l'intervento e allora siamo arrivati al Capolinea a questo punto non mi rimane che augurarvi un buon weekend e consegnare almeno per i prossimi tre giorni da lunedì a mercoledì prossimo la rassegna stampa al mio collega quindi auguro un buon lavoro ad Andrea Amaduzzi grazie per l'ascolto e a risentirci Grazie a tutti